Ci sono momenti nella vita dove nulla sembra avere più senso. Tutte le tue certezze vengono improvvisamente spazzate via da un qualcosa che è totalmente fuori controllo. Quello che hai costruito inizia a sgretolarsi. Ti senti lentamente sprofondare, centimetro dopo centimetro. Aspetti solamente di toccare il fondo, accasciarti a terra, chiudere gli occhi e trattenere il respiro. Nella speranza che tutto passi nel più breve tempo possibile. In quei momenti capisci veramente chi sei e hai solamente due possibilità. Lasciarti andare e accettare le cose come sono. Oppure riprendere a lottare e dimostrare chi sei veramente. Un vincente che non si ferma davanti a niente e nessuno. Per te, per la tua famiglia, per i tuoi figli. Per poterti guardare allo specchio, senza paura di incrociare il tuo stesso sguardo. Nessun avversario è troppo forte per essere sconfitto. Nessun obiettivo è troppo grande per essere raggiunto. Non importa il tempo che impiegherai, non importa quanto ti costerà. La cosa essenziale è arrivare sempre fino in fondo. Nella mia carriera ho vinto tanto. Ma lascia che ti dica una cosa. Le vittorie più grandi sono quelle senza podio, senza medaglie. Quelle dove vincere significa arrivare al traguardo e non tagliarlo per primo. L'unico modo che hai per perdere è rifiutarti di combattere. Non permettere mai a nessuno di decidere il tuo destino. E anche quando ti danno per sconfitto, non mollare. Anche quando ti viene voglia di lasciare, ricorda che c'è sempre chi fa il tifo per te. Io ho scelto di ritornare in acqua, da vincente. Perché dentro ho già vinto tutto. Sii padrone della tua vita. Costruisci il tuo destino.